E' stata organizzata per la seconda volta a Nicosia la festa di inizio autunno in concomitanza con l'inizio del mese di ottobre. L'evento è stato fortemente voluto dal Comitato Donne con il patrocinio del Comune di Nicosia. Il sottotitolo della manifestazione, odori, sapori, atmosfere, traffichi in India, fichi, mandorle e uva, fa ben comprendere il tenore ed i contenuti di questa particolare ed innovativa festa. La manifestazione si è svolta a lungo diversi punti della città. L'inaugurazione è avvenuta in mattinata presso la piazzetta San Calogero alla presenza del sindaco Luigi Bonelli e dell'assessore Ivan Bonomo. Nella stessa piazzetta è stato allestito lo stand del Comitato Donne ricco di tanti prodotti dolci e frutta realizzate dalle donne componenti del Comitato e con prodotti tipici autunnali, uva, fichi d'India, noci, fichi, torte, crostate e pasticcini che sono stati apprezzati durante la degustazione. In piazza Garibaldi sono stati allestiti diversi stand con mozzarella di bufala e formaggi, dolci di pasticceria locale, frutta e tanti prodotti ricavati da materie prime naturali. Allestimenti anche lungo la via Freli Testa, una mostra di prodotti artigianali e bigiotteria è stata allestita nell'androna di Palazzo Speciale a cura dell'artista Agnese Bruno. Preggevoli oggetti e tessuti dipinti a mano a cura di Grimille de Style all'ingresso di Palazzo Cirino, mostra curata dalla Fidapa di Nicosia. All'ingresso di Palazzo Ospedale Vecchio, una serie di bijoux realizzati a mano con fibra di fichi d'India dall'atelier manituana di Assoro. Tra i più apprezzati, l'allestimento con i veicoli d'epoca lungo la salita del Carmine a cura dell'Associazione Veicoli Storici di Nicosia. In Piazza Marconi, uno stand con esposizione di prodotti tipici locali. Come lo scorso anno, la compagnia teatrale Artiste di Strade ha rappresentato in Piazzetta San Calogero un nuovo lavoro. Si tratta di un corto teatrale in dialetto gallitalico dal titolo Namastra, scritto da Rita Scinardi.